Noi siamo contrari a questo provvedimento perché sta di fatto distruggendo quel tessuto di piccole banche che ha garantito credito negli anni, nei decenni passati, alle famiglie italiane e soprattutto alla piccola impresa, quella che ha garantito ricchezza al nostro paese. La teoria secondo le quali un gruppo più grande bancario è più solido è una teoria che non regge. Ricordiamo che i maggiori problemi nel mondo bancario sono quelli derivati da grossi gruppi come Monti dei Paschi, la Popolare di Vicenza o Veneto Banca. Le piccole banche sono le uniche che garantiscono ancora credito alla nostra economia. Il governo invece di intervenire in questa direzione dovrebbe intervenire per sanare il conflitto di interesse che riguarda la propria azione di governo e dovrebbe finalmente restituire il mal tolto a quelle numerose famiglie che sono state penalizzate alla fine dell'anno scorso con un decreto che ha zerato i risparmi di una vita di molte famiglie italiane.